è arrivata a Novara la protesta degli agricoltori. Mercoledì mattina, 31 gennaio, sono giunti nell'area parcheggio dello Stadio Piola, tre diversi cortei partiti rispettivamente, da Cameri, Vicolungo e dalla vicina Borgo Vercelli. Dopo un sit in i trattori sono ripartiti alla volta di Vicolungo, zona outlet, dove era prevista una nuova sosta. Gli agricoltori protestano in tutta Europa per i rincari e la politica. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.